E' già partito? Ok, perfetto. E ritorniamo su questo pendio di Waddington, mentre ci stavamo proprio sporgendo verso quella parte del pendio che rotola verso il differenziamento. E allora, il punto esatto non me lo ricordo, ma vediamo di fare comunque un recap delle puntate precedenti. Cioè, no, un recap. Ce l'avamo fermati qua. Questo si chiama cascata genica. Aspettate che controllo di stare registrando veramente. Bravo. Allora, questa è la cascata di espressione genica, giusto? Quindi abbiamo visto che c'era questo interruttore. Pimar 1, clic, che in un punto specifico però, no? Pimar 1 è l'interruttore che fa partire quel programma genetico. Primary Masing Time Cells. E quindi il problema dello sviluppo a questo punto, per mettere la cellula giusta al posto giusto, era far partire questo programma genetico, cioè schiacciare questo pulsante Pimar 1 nel punto giusto della larva. E a questo ci ha pensato la mamma. Discevel, beta catenine, Pimar 1, lo accendiamo qui. Inibisco SC e quindi da tutte le altre parti siamo sicuri, perché abbiamo messo questo inibitore, che quel programma genetico che è in pole position, ve lo ricordo, ci sono dei fattori ubiquitari che lo fanno partire, rimanga fermo, rimanga stoppato da questo SC. Ok, ma a questo punto Pimar 1 come fa a far diventare Primary Masing Time Cells? D'accordo? Pimar 1 dice PMC's qui! E poi si spegne subito però, abbiamo visto, cioè viene da un regolato immediatamente. Come fa questo singolo gene a far partire un programma genetico, no? A far deviare la cellula lungo il pendio di Waddington, a prendere quella strada e poi tutti i bivi che ci saranno a valle. Allora abbiamo visto che in effetti SC inibiva una serie di geni chiave, abbiamo chiamati Master Regulatory Genes. Questi geni chiave in effetti però sono diversi, tutti quanti in qualche modo necessari per avere le Primary Masing Time Cells. Questa parola necessario adesso ce l'abbiamo presente, vuol dire che se lo muto, non abbiamo più le Primary Masing Time Cells. Ma non ce n'è solo uno questa volta, ce ne sono tanti, perché? Però in effetti abbiamo anche detto che un programma genetico è una cosa complicata, ci sono tante cose da fare. E qui noi stiamo raccontando la storia di un'evasione, di un'evasione dalla caserma, nella mia metafora, di una diserzione, in cui ci sono tante cose da fare, ti devi togliere la divisa, non devi farti vedere dalla guardia e poi a un certo punto bisogna rompere le sbarre. Basta che uno qualunque di questi pezzi del piano vada storto e il risultato finale è no evasione, giusto? No, non riusciamo a scappare. E quindi l'idea, adesso la verificheremo un pochino più da vicino, ma in realtà è così, che in questi network di regolazione genica ci sia in qualche modo un'organizzazione modulare, come nella casa di Cartali, dove sono tutti i vari personaggi che si occupano di certe funzioni. Quindi questi sarebbero dei sottointerruttori rispetto a Pimaruno, dice accendete lì quel programma genetico. Ok, però a questo punto c'è una struttura gerarchica proprio del programma genetico, in cui questi singoli geni, o magari in combinazione tra di loro cooperando, si occupano di accendere moduli di geni, sono dei sottointerruttori per dei moduli di geni, ciascuno dei quali controlla certe funzioni. Cell fusion, migration, biomineralization, e tutti questi, no, come se fossimo in una grande azienda e c'è l'ufficio biomineralizzazione, e c'è un capo della biomineralizzazione, d'accordo? Quindi un fattore di trascrizione che permette di accendere a cascata una serie di altri geni. Vi ricordo che i geni della Sea Urchin Genome sono 30.000 tipo, una cosa del genere, e qui ne stiamo guardando 10, è chiaro che stiamo guardando i capoccia, ok? I colletti bianchi, e poi a valle ci sarà chi fa il lavoro, vero? Ok? Allora, però, come facciamo a capire se è davvero così? Cioè, come funzionano questi interruttori? Quello è a capo di quale dipartimento? Come controlla quel dipartimento? Come si parlano? Allora, non entraremo in questo dettaglio, che chiaramente però è lo sforzo globale che in tutto il mondo adesso, con liste di geni, chip sec, genomi, a cercare di leggere, a cercare di capire questa cosa. In realtà noi andremo a vedere molto più semplicemente appunto un piccolo esempio, che tra l'altro viene da un articolo solo quasi. Allora, abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate, questo esempio di video microscopi, in cui noi riusciamo a seguire le cellule, che se ne vanno? Ok, aspetta, aspetta, questa cosa qui l'abbiamo già visto, vi faccio vedere ancora solo una piccola cosetta, così dal punto di vista tecnico, poi entreremo. Uno dei problemi che abbiamo, in effetti, è, visto che abbiamo poi una lista di geni molto lunga, di chi è importante per fare questa primary mesenca M-Sales, è anche di cercare di capire prima di tutto i livelli, ok? Cioè ci sono più livelli, abbiamo visto P-Mar 1 in cima, e poi una serie di geni sotto, ma come si regolano tra di loro? E vi faccio solo un esempio, dai, così, sperimentale, poi chiaramente lo scaliamo, e lo immaginate anche su altri modelli simili. Ok, che sono questi due geni, ALX1 e Snail. Qui c'era un V-Club, ma dai che ormai siamo amici, lo saltiamo, non lo so, vediamo. Allora, ci sono un sacco di geni, appunto, qui che dice, ma vorremmo capire quelle che sono le relazioni, cioè chi controlla chi. Io voglio sapere, per esempio, è ALX1 che controlla Snail, o Snail che controlla ALX1. Una cosa che potremmo fare è il chipset, fantastico, quindi dici, ma guarda che ALX1, guardate, seguite la freccia, ah, io lo trovo sul, sul, come si chiama, lo trovo sulle sequenze regolative, su un enhancer, su un promotore, lì vicino al sito di start di Snail, e quindi penso che ALX1 possa regolare Snail. Verifichiamo, ok? Verifichiamo, come lo verifichiamo? Beh, possiamo vedere come sono espressi, questo è l'X1, qui vedete come è espresso Snail. Snail è un po' più largo, diciamo, delle primary means and time cells, però effettivamente è espresso proprio nella fase in cui loro fanno questa mesenchima al tuo epitelia transition, epitelia al tuo mesenchima transition, scusate. Guardatelo qua, vedete, è un gene materno o zigotico? In quella primissime fase, durante la segmentazione, è espresso? No, è un gene zigotico. E un gene zigotico viene acceso già un po' avanti, qui vi dirò, e rimane acceso finché le cellule sono scappate, le vedete qua? Che sono appena uscite dal blastocele, no? Oh epitelio, tu sei maledetto, per ogni cuore. Facciamo un piccolo omaggio a Giovanna Marini, per chi la conosce, mancata ieri. Comunque, queste cellule scappano dall'epitelio ed entrano nel blastocele. Nel blastocele è ancora espresso, ma poi viene subito da un regolato. Attenzione, non ci confondiamo. Questa espressione di snail qui, queste sono cellule, che adesso tra l'altro vediamo in una fase più avanzata dello sviluppo, è un altro tipo di cellula. Quindi queste sono secondari mesenchyme cells. Queste anche loro faranno l'epitelio to mesenchymal transition, ma più avanti. Ma guarda un po', sembra proprio un gene associato all'epitelio to mesenchymal transition. Mentre le nostre primary mesenchyme cells, che sono qui ai bordi, in questa fase, in cui stanno secernendo invece lo scheletro di carbonato di calcio, boh, snail non serve più. Fatto, ok? Quindi snail serve proprio in quel periodo, in cui c'è l'epitelio to mesenchymal transition. Ma guarda un po', questo sembra figo. In realtà in alcune salta fuori poi di nuovo dopo, ma non in tutte. Questo è un dettaglio, va bene, ma tanto oggi abbiamo tempo, me la prendo lunga. Guardate qua, il cerchio delle primary mesenchyme cells è questo, si intravedono. Ci sono due cluster che lo riesprimono a un certo punto, e chissà, ce lo teniamo lì. Allora, come facciamo a capire però la relazione dei due geni. A lx1, chi controlla snail, chi controlla lx1, la loro funzione specifica. Allora, un metodo proprio classico, standard, è quello di utilizzare la mutazione, loss of function, ne muto uno e vedo cosa succede all'altro. E poi potrei fare anche il gain of function, quindi ne accendo uno, nel posto sbagliato, e vedo cosa succede all'altro. O anche che cosa succede in generale al comportamento delle cellule, senza un geno, senza l'altro. Ok. Un caso molto specifico, ma lo useremo come esempio. Allora, di nuovo abbiamo il problema, a questo punto io direi, di partire con l'oss of function, se siete d'accordo. Quindi lo spegniamo, spegniamo a lx1, spegniamo snail, e vediamo cosa succede uno all'altro. E ci sono appunto tanti modi per spegnere il gene, ma questo mi dà l'occasione per raccontarvene uno che forse non avete mai sentito, non so, di solito non l'avete mai sentito. I vostri compagni degli anni passati che vi ha preceduto in quest'aula non l'aveva mai sentito. Il morfolino antisenso. Mai sentito? Ok. E poi che cosa sono i morfolino antisenso? Allora, in questi animali, vedete, questo è uno zebra, fischmo, fa lo stesso, in cui il citoplasma appunto dell'uovo, più o meno è la massa che poi le cellule si suddividono, no? Che ereditano. Allora, è possibile riempire appunto questo citoplasma dell'uovo con dei analoghi, d'accordo, degli acidi nucleici che si chiamano morfolini. Quindi questi sono delle molecole che somigliano nella struttura agli acidi nucleici, che sono in grado di appaiarsi con le basi agli acidi nucleici, d'accordo? Quindi la complementarietà delle basi è mantenuta, la distanza tra le basi è perfetta e ci si legano. E quindi, in qualche modo, possono fare da carta moschicida per dei, da spugne che assorbono certi mRNA. Quindi l'mRNA viene trascritto, però poi non arriverà mai al ribosoma, d'accordo? Perché si appiccica a questo morfolino e poi rimane lì, non si può usare. Ok? L'RNA in realtà tendenzialmente viene distrutto, mentre, e questa è l'altra figata, il morfolino no. Queste, queste molecole nessuno le ha mai viste nell'evoluzione delle cellule, non c'è un enzima che le rompe. Eh, è così. Somiglia, ma non è uguale, quindi, chi, l'RNA, l'RNAasi non sono capaci di distruggerli, questi morfolini. E quindi sono molto stabili e permettono quindi di inibire il gene, quindi senza dover fare un mutante in qualche modo, d'accordo? È più comodo, sono facili da sintetizzare, si possono anche tarare, quindi io non devo per forza spegnere il gene, potrei ridurlo un po', tanto, medio, d'accordo? Cioè, non si può fare in tutte le specie, però in quelle specie in cui si può fare è molto comodo. E, tipo, il rizzo di mare è una di queste specie. E quindi, tadam, proviamo questo morfolino antisenso e cominciamo subito con, per esempio, ALX1 che abbiamo visto era ipotizzato a monte. Quindi, aspettiamo un po' di tempo, vediamo che le larve wild type, che tanto crescono insieme, no? Tu alcuni ovociti gli metti il morfolino, altri no, fai partire la segmentazione, questi partono tutti insieme, Butti gli spermatozoi e vai! Pronti? 1, 2, 7, 8, oh la la, piega, scolazione, e fanno, e quindi, mentre i wild type sono già alla gastrullation, hanno quasi finito il primo atto, invece, i morfolini sono rimasti lì, così, no? Non c'è stata gastrullation, no party, nessuno, ok, ha messo su il set da DJ nel blastocele per fare questa festa, che le primary meeting cancels fanno nel blastocele, niente, qui vi avevo messo, forse ecco qua, questo è uno dei, proprio preso dal film, d'accordo, vedete, la nostra evasione, la diserzione, non ha funzionato, il piano è andato storto, lui è rimasto lì. Allora, che cos'è che è andato storto, appunto, ci stiamo chiedendo, e qui una prima cosa che possiamo chiederci, appunto, è se intanto LX1 è a monte o a valle di questo snail. Ci siete? Senza LX1, snail, sarà stato espresso, sì o no? Ci siete? Come facciamo a vedere se un gene è stato espresso in questi set qua, l'abbiamo visto l'altra volta? Per vedere l'espressione del gene, questi qua che vi ho fatto vedere qua, tipo questo, no? Questo, snail, questa che cos'è? Che tecnica era? Non ve l'ho detto, ve l'ho detto l'altra volta, ma lo sapete? Il blu vuol dire che lì c'è il gene, è acceso, espresso. Sapete cos'è quello? Io l'ho detto così, il gene espresso, lo vedete, è blu. Ibridazione in situ, ok? Quello è l'NRNA, io ho una sonda che si lega di nuovo in modo specifico a quell'NRNA, di snail, e poi quella sonda io faccio precipitare in modo enzimatico un colore, esistono anche le sonde fluorescenti, esistono di vari tipi, comunque ho un sistema che mi dice dove si trova l'NRNA. Allora, io posso fare un'ibridazione in situ, qua, qui, vediamo dove è snail, pronti? Chiaramente lo vado a cercare un po' prima, d'accordo? Perché poi abbiamo visto che dopo non c'è più, lo vado a cercare quando è espresso, quindi qui siamo in una fase precedente, ci siete? Che era quando è espresso snail, lo vado a cercare quando c'è, è inutile che lo cerco qui che è già stato da un regolato, ecco, ma qui, che anzi, la fase che anche io voglio verificare, vedete, qui le cellule sono uscite ed esprimono snail, qui chiaramente non è uscito nessuno, ma nessuno esprime neanche snail, e quindi questo mi conferma che ALX1 è importante per far esprimere snail, senza ALX1, no ALX1, no snail, ma a questo punto forse tra ALX1 e questa uscita dell'epitelio, ci siete? Forse c'è snail, potrebbe esserci snail in mezzo, quindi forse snail controlla questo, diciamo, questo comportamento, no, di uscire dall'epitelio, l'epitelio al tomesenchymal transition. Snail è uno dei, che riceve il comando da ALX1, ALX1 accende snail e snail a sua volta farà partire l'epitelio al tomesenchymal transition. Quindi snail a sua volta è un fattore di trascrizione, ve lo dico io, e quindi forse snail a sua volta controllerà un modulo di geni e lui, che poi, quella è l'unità, no, operativa di geni che mi permette di evadere. Vediamo, vediamo, può essere e per esempio potremmo provare in effetti con la over-espressione di snail. In questo caso, sempre messo così, nell'ovocita, in modo di darlo a tutti. Allora, l'embrione non si è proprio completamente disgregato, però non c'è dubbio che questo party del blastocele è stato un successone. Guardate quante cellule ci sono lì dentro, state vedendo? Normalmente c'è un mucchietto, questo qui, io non ve l'ho messo il controllo, l'abbiamo già visto mille volte, normalmente c'è un piccolo gruppetto di cellule, 64. Quelle di 64 cellule sono quelle che vanno nel blastocele, quelle che entrano nel blastocele. Invece qui, yeah, tutti nel blastocele, vai ragazzi, wuhu, cioè snail è proprio un acido che questi si mettono sotto la lingua e vanno fuori di testa, ole! C'è un sacco di gente che è voluta andare, un sacco di cellule sono andate nel blastocele. Magari si sono anche divise di più, boh, non lo sappiamo, però diciamo che questa delamination, hey, è stata proprio la moda del momento. Quindi effettivamente questo, diciamo, questo, come si dice, oh, questo mutante, insomma, di overexpressione, questo, insomma, modo in cui si sono comportate le cellule, mi dice che snail probabilmente in effetti è implicato in questa epitelial to be seen criminal transition. Quindi ALX1, che è uno di questi master, controlla dei altri bottoni ancora sotto, snail, e snail a sua volta controllerà questa funzione. Di nuovo con dei moduli di geni, però stiamo andando velocemente, risalendo la catena, riscendendo, la catena di comando per arrivare a chi è che controlla poi il programma genetico. In realtà potremmo anche, scusate, chiederci, provare a fare una verifica. Ok, allora, snail induce questo, ehm, ah, fenotipo, oh, scusate, non mi viene questa parola semplicissima, perché la parola che cercavo prima era fenotipo. L'overexpressione di snail induce questo fenotipo di super eccesso di ingresso nel blastocele, epitelial to mesenchymal transition aumentata. Wow, mega party. Che cosa succede a questo punto se il nostro modello è giusto? Se io faccio la snail overexpression, ma in contemporanea, sempre nell'ovocita, tanto ci metto quello che voglio, quindi metto l'mRNA di snail, che tutti possano averne, eh, eh, prendete, la mettetene tutti sotto la lingua, dice lo ziobiologo, ha questo snail, però contemporaneamente io spengo LX1 col morfolino. Entriamo in questo, che cosa succede secondo voi? Cosa vi aspettate? C'era un V-Clap, ma vorrei farlo più veloce, è così, dai, tra amici. Cosa potrebbe succedere? Eh, dimmi? Lo stesso fenotipo, il nostro amico vota per lo stesso fenotipo? Chi vota per lo stesso fenotipo? Chi è con lui, alza la mano? Dai, non si vince niente, non vi preoccupate, non si perde niente più che altro. Eh, ok. Chi invece vota per un fenotipo diverso e me lo spiega? Dai, cosa ti aspetti? Meno cellule, comunque, ALX1 fa qualcosa, non è sbagliato la sua idea, ALX1 farà qualcosa, non è solo controllare SNAIL, altrimenti sarebbe inutile. Mi aspetto che ALX1 faccia qualcosa in più. Hai ragione, ma in questo caso, in realtà, dal punto di vista del fenotipo che stavamo cercando, c'è epitelial to mesenchymal transition, non sono uguali, eh, questi due embrioni. Ti d'accordo con me? Non sono uguali. Però effettivamente, rispetto a quel carattere che stavamo cercando in questo fenotipo, ogni fenotipo è fatto di tanti caratteri, rispetto a quel carattere dell'ingresso, eh, allora sì, possiamo dire che è lo stesso fenotipo. D'accordo? Quindi, c'è comunque questo aumento di ingresso. Quindi, ALX1, probabilmente, c'è SNAIL, poi, l'ingresso delle cellule nel blastocele lo controlla in modo indipendente. Una volta che hai acceso SNAIL, poi SNAIL fa quello che deve fare. E ALX1 è solo di nuovo un interruttore di un altro interruttore. E questa catena di interruttori, ok, modulare, probabilmente è il modo in cui è organizzato il nostro genoma. Ci dobbiamo riflettere ancora un attimo, ma vedrete che questa cosa avrà senso e forse questo è anche il motivo per cui gli organismi pluricellulari si sono evoluti così in fretta, questo è ancora più difficile. Ma vedrete che magari a un certo punto, piano piano, riflettendoci, forse questa cosa avrà un senso. Allora, ma andiamo avanti. C'è ancora un problema, però, nell'interpretare il nostro fenotipo. Perché noi qui che cosa vediamo? Vediamo che SNAIL, in qualche modo, quindi, abbiamo detto, è un acido sotto la lingua e quando c'è molto SNAIL, quando c'è troppo SNAIL, ci sono un sacco di cellule che vanno nel, nel Blassocele, d'accordo? Quindi c'è, questa festa del Blassocele ha un grande successo. Tantissimi vogliono andare lì. Perché? Possiamo chiederci. E una delle questioni importanti qui, da risolvere, che di nuovo però, scusate, ve lo faccio in questo caso, ma è di nuovo una questione generale, che vale in tutti i modelli di biologia dello sviluppo, e oltre, in biologia proprio in generale, è se l'effetto di questa mutazione, in realtà questa non è una mutazione, però di questa alterazione genetica, abbiamo over espresso un gene, ok? Io vorrei esprimo questo gene, però lo vorrei espresso in tutte le cellule. E allora a questo punto però mi dico, ma questo effetto di andare tutti alla festa, è dovuto ad un effetto se l'autonomous, cioè ogni cellula dentro di sé, ha sentito il desiderio di uscire, e lo ha fatto autonomamente, spontaneamente, indipendentemente, ok? Quindi, non so perché sto andando lì, ma ci vado, d'accordo? Oppure, invece c'è un effetto non se l'autonomous, cioè, magari snail, ha stimolato, chi lo sa, la produzione di un qualche fattore, che stimola le cellule a entrare nel blastocele, ok? Quindi, le cellule autonomamente hanno deciso, voglio andare lì, ma non so perché, oppure hanno sentito, qui ho messo le sirene, una musica meravigliosa, ehi, fai gata, e sono state attratte da questa musica. Ci siete? Perché se snail mette sulla musica, allora il suo effetto può essere molto più ampio della singola cellula. Andrà ad impattare sia cellule che hanno la mutazione, che, vabbè, chiaramente qui ce l'hanno tutte, ma potenzialmente potrebbe impattare anche cellule che non hanno la mutazione. D'accordo? E quindi, per testare questo effetto, quindi per capire se snail agisce in modo se l'autonomous o non se l'autonomous, abbiamo bisogno di mutare snail a livello di singole cellule. Abbiamo bisogno di avere un singolo piccolo gruppetto di cellule che solo loro hanno la mutazione. D'accordo? Allora capirò se loro sono dei DJ, mettono la musica e fanno entrare tutti, oppure, invece, oppure nel momento in cui entrano in pochi, no, l'idea, scusate, di questa mutazione sparsa, vi ho detto una stupidaggine, cancellate, l'idea della mutazione sparsa è proprio quella di non modificare l'ambiente. Cioè, se io ho poche cellule che esprimono snail, ok, scusate, che overesprimono snail, io mi aspetto che l'ambiente nel complesso non sia troppo modificato. Con tutte le approssimazioni del caso di cui, spero, stiate, su cui state riflettendo. Spero di non modificare l'ambiente e quindi di poter verificare meglio l'effetto cellulare autonomo. Per la mutazione vale la stessa cosa. Ma allora, come posso fare questa cosa? Ta-da! Allora, posso usare il trucchetto che avevamo già utilizzato prima. Ve lo ricordate? Rapiantavamo dei blastomeri, no? Quello con Pimar 1, in quel caso era un mesomero. Comunque, possiamo usare il trapianto di cellule e vedere come si comportano queste cellule. In questo caso, in realtà, l'esperimento che vi faccio vedere è un pochino più sofisticato, ma direi anche migliorato, sicuramente, perché, a parte questo elemento patriottico, non sono italiani i ricercatori che hanno fatto questa ricerca, però, insomma, li ringraziamo per avere ispirazione alla nostra bandiera, in ogni caso. Cosa decidono di fare loro qui? Attenzione, anche un controllo interno. Dunque, cominciamo con ALX1. Ci siete? Allora, cominciamo con ALX1 e vedere il ruolo cellautonomous della mutazione di ALX1 sulla, su questa epitelial to mesenchymal transition. ALX1, mettiamo il morfolino insieme ad un colorante rosso e così lo mettiamo in un'ovocita e in questo modo possiamo avere una fonte di micromeri mutati per ALX1. Ci siete? Quindi questi, se io prendo un micromero da qua, questa cellulina che ho staccato è mutata per ALX1. Allora, e questo lo posso trapiantare in una larva normale. Quindi per vedere come si comporta questo. Ecco, però, e questa in realtà è una buona norma quando si può fare, già che ci sono inserisco anche quello che si chiama un controllo interno. Cioè, prendo una cellula verde che ha subito gli stessi trattamenti di quest'altra, quindi è stata anche lei mutata, cioè scusate, è stata anche lei trapiantata. Il suo uovo era stato bucato, gli hanno messo questo colorante verde, l'abbiamo staccato, l'ho appiccicato, quindi ha seguito tutte le stesse procedure, però l'unica differenza a questo punto tra quella rossa e quella verde nella loro storia è che una non ha l'X1 e l'altra ci siete? Si chiama controllo interno. Quindi da questa verranno fuori otto cellule mutate, da queste otto cellule normali ma trapiantate e poi abbiamo otto cellule invece normali che erano già lì. Cioè, scusate, 16. A questo punto dobbiamo, vabbè, ve lo faccio vedere, siete pronti? Però mi piacerebbe che lo immaginaste già. Di nuovo c'era un V-Club, ma ragazzi, qui se no non finiremo mai. a Ferragosto siamo ancora qui, facciamo la grigliata insieme, con i virici di male. Immaginate un attimo che cosa può succedere di questo esperimento. A questo punto, se LX1 agisce in modo cell autonomous, come mi aspetto di vedere? Nello sviluppo di questa larva, giusto? Io vedo come si svilupperà questa larva. se LX1 agisce in modo cell autonomous, che cosa succede? E certo, solo quelle verdi e quelle bianche andranno alla festa. Quelle rosse staranno sul divano. Perché no, io non ho sentito bisogno di andare da nessuna parte, stavo bene qua. Ma che c'è qua? Non è male questo epiterio? Comunque poi ti danno i pasti gratis, figo l'esercito è figo, no? Ok? Se è una cosa, se è l'autonomous, quindi le cellule sentono da sole il desiderio di uscire nel blastocele e a LX1 è parte di l'attivazione di questo desiderio di uscire, d'accordo? E induce questa fuoriuscita. Allora, le cellule che non hanno LX1 rimarranno lì, non si muoveranno, ma le altre sì. una di fianco all'altra e esattamente quello che succede. Vediamo se riusciamo ad accorgersene. Attenzione, questo è l'inizio della gastrulazione, questo è l'embrione al contrasto di fase e questa è l'immagine in fluorescenza. Ci siete? Qui le vedete tutte e due insieme. Le cellule verdi sono uscite, si sono andate a posizionare insieme a quelle bianche e sono lì pronte a fare le spiccole. Qualcuna non è venuta alla festa e vabbè. Perché? Dove sono? E guardatele qui, le cellule rosse invece sono rimaste nell'epitelio. Non si sono spostate, perché dove devo andare? Che c'era da fare? C'era una festa? Oh, che festa, a me non piacciono le feste. Capito? Abbiamo, adesso non abbiamo schiacciato Pimar1, Pimar1 è intatto, sono intatti anche tutti gli altri geni delle primary missing cells, ok? ETS1, delta, quindi Pimar1 ha inibito, ESC, abbiamo fatto tutto, però ALX1, ecco, quel piccolo pezzo non ha funzionato, non era attivo e questo è bastato perché da qualche parte l'evasione fallisse. D'accordo? Quindi, le cellule sono rimaste nell'epitelio. Cosa ne sarà di queste cellule? Sono un fenotipo ibrido, né carne né pesce, diventeranno una bocca, vi dirò, non lo so. No, c'è il lavoro, potete andare a vedere. ok, però attenzione, vorrei fare la stessa cosa a questo punto con lo snail overexpression. In realtà questo schema qui, sperimentale, a questo punto noi lo potremmo utilizzare per un sacco di altri geni ed è stato fatto. Bisogna farlo per ETS, possiamo farlo per tanti altri. Allora, e adesso di tanti poi li vedremo, vedremo questo esperimento anche fatto con altri. In ogni caso, vediamo per esempio che cosa succede se, vediamo se snail il suo effetto era se l'autonomous o non se l'autonomous. Utilizziamo la stessa cosa, mettiamo questa volta di nuovo il morfolino per la LX1, però questa volta sulla cellula verde, quindi lo studiamo un po' diverso, la cellula verde invece questa volta mettiamo l'LX1 mosfolino ma anche lo snail mRNA. Ci siete? Quindi voglio testare in effetti che snail sia a valle di LX1 anche a livello se l'autonomous. Avremo l'epiteria to mesenchymal transition? E la risposta è minchia sì, pure troppa. Non è proprio normale questo animaletto, cioè qualcosa è andato storto però dal punto di vista del carattere che stiamo analizzando, quindi sganciarsi dall'epitelio, anzi questo sembra veramente qualcosa quasi tumorale, non vi so dire, leggete nell'articolo se volete qualche commento o delucidazione in più. Comunque vedete le cellule verdi che quindi non hanno LX1, non ce l'hanno a LX1 ma hanno snail, allora mi, snail ragazzi è veramente un acido sotto la lingua. Le cellule che hanno snail over expression sono uscite, quelle a LX1 mutate però attenzione no. Quindi è un comportamento che queste cellule che over esprimono snail yeah andiamo alla festa wow gasate come le pazze vogliono uscire però lo fanno per i fatti loro. D'accordo? Magari in mezzo al bassocello hanno messo su una mega festa con una musica pazzesca però quella è una cosa che fanno loro, hanno le cuffie non so come dire. non hanno alterato l'ambiente in una maniera tale che abbiano convinto cellule mutate per LX1 a uscire a loro volta. D'accordo? Quindi chi non aveva LX1 non ha acceso snail e non è uscito dall'epitelio non ha delaminato. D'accordo? Invece chi aveva snail over espresso invece ha delaminato è entrato nel blastocele e è andato alla festa. Allora questa è la dimostrazione che snail over expression fa fare l'epitelial to mesenchymal transition alle cellule in modo cell autonomous. Ci siete? Quindi snail controlla un qualche programma genetico che dentro la cellula modifica il suo modo di comportarsi e la fa uscire. Ok? Snail controlla un programma genetico e controlla il modo in cui si muove la cellula a livello cell autonomous faticoso e guardate che ci abbiamo messo dieci minuti c'è gente che su queste cose passa tutta la vita no? La biologia è faticosa vedi che ricostruire questi network di regolazione genica è una faticaccia però dopo un po' ti gasi questo fenotipo è fighissimo scusate ma questo fenotipo è fighissimo vabbè basta questa è roba da sfidare. Allora ma detto ciò allora così per darvi così un'idea sempre di approcci sperimentali no? E di organizzazione modulare di questi programmi genetici vi faccio vedere un piccolo uno studio uno solo anche un po' vecchio adesso però lo vediamo così velocemente in cui ci si è chiesti proprio questa cosa qua quindi abbiamo tanti geni ma è possibile che ciascuno di questi geni di questi interruttori di fatto controlli dei sottocircuiti e in questo caso stiamo cercando dei sottocircuiti proprio dell'epitelial to mesenchymal transition quindi epitelial to mesenchymal transition l'evasione abbiamo detto è fatta di tante cose quindi bisogna sganciarsi fare tutta una serie di cose e ci sono tutta una serie di geni che noi sappiamo se li mutiamo non permettono di fare questa questa epitelial to mesenchymal transition qui ce ne sono mi pare tredici ci sono tredici fattori di trascrizione che se voi li mutate si dimostrano necessari per quel fenotipo ma perché è possibile che ognuno di loro in qualche modo controlla un sottocircuito diverso e a questo punto in effetti loro isolano cinque processi biologici cose da verificare è successo o non è successo no? quindi sì no oppure bene male meglio peggio quando c'è o non c'è il gene e quindi per esempio abbiamo quindi tutte le cose che servono questa è la lista delle azioni che bisogna fare per riuscire ad evadere ci siete? per fare l'epitelial to mesenchymal transition servono queste cinque almeno queste cinque poi probabilmente ce ne sono anche di più quindi rimodellamento del basement membrane bisogna iniziare a muoversi se no rimani fermo lì bisogna cambiare la propria forma no? avendo quel apical constriction e spostandosi verso dietro e poi fondamentale perché se no non si va da nessuna parte bisogna smontare i sistemi di adesione bisogna tagliare l'adesione togliersi la divisa filarsi e andarsene e quindi loro fanno il morfolino secco qui ok? cioè già è complicato morfolino per tutti questi geni e vanno a vedere che cosa succede e la prima cosa che fanno in effetti quindi verificano che in tutti i casi non c'è la fuoriuscita questo è il wild type qui vedete però per esempio vediamo un po' che cosa succede a questo basement membrane remodeling e qui vedete il gene mutato lo vedete? TBR per esempio non lo fa cioè TBR non esprime le metalloproteasi necessarie a tagliare le sbarre quindi l'evasione basta quello per non evadere per non fare l'epiteglia per non delaminare se vogliamo usare anche DRI anche HEX non lo fa SNAIL invece guardate anche TWIST ALX1 ERG FOXB ci sono una serie di geni che invece è vero che non c'è stata la delaminazione alla fine non è riuscito il piano di evasione però una parte del piano era stata messa in atto quindi le sbarre erano state tagliate la lamina basale scusate la riconoscete qua lo vedete questo in viola e la laminina l'abbiamo visto l'altra volta l'abbiamo visto ieri in viola la laminina e qui se vedete la laminina si è aperta quindi vuol dire che il mutante di quel gene è vero che non ha poi in definitiva ha avuto le primary mesenchyme cells che erano entrate nel blasto cell però aveva iniziato almeno il programma aveva iniziato quel programma genetico ci aveva almeno provato quindi è andato storto evidentemente qualcos'altro questo quindi vediamo che non funziona per alcuni geni ma per altri invece funziona ok a questo punto però questi altri elementi che vogliamo vedere di cui vogliamo verificare acquisition of utility self shape change self polarity the adhesion queste sono tutte caratteri che però non possiamo approcciare col morfolino ok perché non possiamo mutare tutte le cellule qui dobbiamo cercare invece dobbiamo provare a verificare questi sono elementi che noi che sono se l'autonomous per definizione in cui io voglio verificare il comportamento a livello se l'autonomous cioè io voglio vedere se la cellula si muove di suo e quindi dobbiamo utilizzare questa tecnica che abbiamo già visto anche ieri vi ricordate in cui facciamo di nuovo il trapianto di una cellula marcata la marcatura però questa volta siccome vogliamo farci gli videomicroscopi cioè vogliamo proprio studiare il comportamento della cellula mutata utilizziamo quel sistema che vi ho fatto vedere l'altra volta col membrane GFP in modo da vedere la membrana quindi mutiamo la cellula e poi come se fossimo dei dottori ci mettiamo lì facciamo il videomicroscopi e vediamo cosa che non va ci siete? quindi la cellula che va dal dottore dice dottore guardi non riesco a gastrullare e mi faccio vedere faccio vedere facciamo questa gastrullazione vediamo un po' cosa che non va ma lei non si muove bene ma lei non mi sculetta signora certo che non gastrulla ci siete? certo che non mi fa l'epitele e proviamo dai facciamo il dottore di cellule allora questo è il wild type in realtà questo video del wild type inizia già un po' tardi però abbiamo presente anche l'altro vedete che le cellule si muovono tutte e poi a un certo punto si sganciano diventano tonde qui le vediamo già un po' avanti vi dirò comunque questo è già un po' avanti però le cellule vedete devono diventare rotonde devono diventare belle tonde e muoversi e uscire e sganciarsi voilà voilà ed è fatto voilà 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 la gastrullazione voilà voilà allora e qua invece abbiamo il mutante di ALX1 un gene piuttosto a monte d'accordo di tutta la catena vi ricordate no c'erano geni più su più giù quindi ALX1 eh guardi non so lo vediamo male però vediamo vediamo come si comporta ALX1 ci siete? qui ci sono le cellule vicine vedi li passano tutti di fianco stanno uscendo arrivederci ciao eh senta sì sì io sono una primary mese in KM6 glielo giuro avevo la beta catenina altissima avevo la beta catenina c'ho Pimaruno vuol vederlo? eh sì no lei ha un bellissimo Pimaruno però cosa ne dite? cosa c'è che non va? anche qui c'era un V-Club allora i caratteri no non ve lo faccio il V-Club però i caratteri che noi qui volevamo vedere sono motility cosa mi dite della motility di queste cellule? un pochetto però qualcuno ha un po' di più qualcuno ha un po' di meno però diciamo rispetto all'ual type motility meno d'accordo per me meno motility meno poi cell shape change diventano tonde o sono sempre un po' poliedriche cosa ne dite? eh? sì sono allungate come gli epiteli però devono diventare tonde a me non sembrano tanto tonde siete d'accordo? io le vedo piuttosto squadrate quindi qui non ci siamo per niente sono squadrate non sono quindi non si muovono un granché e l'altro elemento che potevamo riflettere è la deadesion mi sembra che si si sganci no? no ok no mi dispiace non ci siamo allora invece vi faccio vedere quest'altro che è anche interessante questo è twist chissà se riesco a abbassare un po' dove le discese a tende madonna I am God io controllo quasi tutte le tende quella non riesco allora discese a tende siete pronti? perché una delle cose che ha fatto God è anche decidere la luce e luce non fu oh si così vedete meglio no? e buio fu chiarissimi allora vediamo questo gene che vi faccio vedere questo diciamo è la coppia comica di snail twist e snail sono due geni molto simili che controllano geni molto simili agiscono in modo molto simile e tipico insomma non c'era snail nei video che ho trovato qui ma c'era twist che è quasi snail d'accordo? quello che abbiamo visto che invece stimolava fortissimamente questa uscita nel blastocele allora vediamo un po' invece twist cosa fa qui lo vediamo un po' più avanti ah cioè sono già un po' più tonde vero le cellule però cosa c'è che non va vedete che sono diverse guardate qua vedete queste cellule come sono allungate no? quindi c'è stata l'apical constriction lì c'è stata l'apical constriction sono tutte schiattate sono quasi anche un po' più tonde sono lanciate verso fuori non c'è paragone con ALX1 siete d'accordo? ok vi faccio vedere i due fotogrammi ALX1 sono tutte squadrate queste invece gli manca proprio solo l'ultimo passaggio vedete lì ma perché non riescono a togliere questo piccolo processino no? perché non riescono a sfilarlo secondo voi? le giunzioni cellulari questo che state vedendo questo è un difetto di de-adhesion si sono portate verso il sono già in superficie è tutto opposto ok? manca l'ultimo chilometro avevano anche rotto le sbarre d'accordo? quello che non sono riusciti a fare queste cellule senza twist è proprio quello di fare questa de-adhesion di sganciarsi dall'epitelio perché? e a questo punto vabbè qui ci sono lasciamo stare questo schema che non è importante perché in effetti e quindi qui forse torniamo anche ad un'osservazione che abbiamo fatto all'inizio per poter uscire dall'epitelio bisogna smontare queste giunzioni queste giunzioni e per questo però la cellula ha bisogno di fare un vero e proprio cambio di pelle come i rettili cioè bisogna sostituire la membrana bisogna prendere quella membrana che è piena di cioè tu come fai? sei pieno di caderine da tutte le parti? la membrana è piena di caderine sono infilate da tutte le parti io le devo togliere queste caderine è un processo attivo mi devo togliere la divisa e mettermi qualcosa di più freak ehi non vorrei mica andare alla festa vestito così sembra uno sfigato stai a casa ok? cioè dobbiamo togliere le molecole di adesione dalla membrana e come si fa? è proprio togliere dalla membrana cioè si fanno delle vescicole vi ricordate tutte queste adesioni tight junction anchoring junction gap junctions e i desmosomi ce ne è di tutti i modi ce ne è di tutti i tipi e ve la risparmio allora qui vedete in rosso questa è un'immagine in rosso in cui è stata colorata la caderina 1 questa è un'immagine vecchissima addirittura neanche in confocale però vedete che queste cellule che qui vedete marcate in verde con un marcatore specifico quando le cellule le primary mesen cam cells escono nel blastocele iniziano ad esprimere questo marcatore che vedete qua in verde e che non è importante però ci permette di distinguerle meglio se no si vedrebbero anche per la loro posizione ma le vediamo meglio e ci fa vedere soprattutto la membrana attenzione dentro la membrana vedete l'anticorpo anticaderina 1 ha colorato tutti questi pallini rossi che vedete li vedete tutti questi pallini rossi queste sono tutte vescicole che sono state tolte dalla membrana con la caderina caderina che è fondamentale d'accordo per l'adesione quindi la cellula invagina membrana internalizza scusate è il termine giusto internalizza tutti questi recettori che poi farà fuori chiaramente non mi servono più io non sarò mai più una cellula epiteliale quindi le caderine non mi interessano specie la E ma figurati è chiaro? quindi viene internalizzato e poi chiaramente dobbiamo anche spegnere il gene spegnere il gene della caderina quello potrebbe essere parte di questo development al program in realtà in effetti se mi permettete posso tornare sto facendo la nostra vita all'incontrario voilà vi ricordate questo video? e alla fine del video se vi ricordate avevamo notato ecco ve l'avevo provato a far notare non so se ve lo ricordate che avevo provato a farvelo notare no? questi hop là uffa non ci riesco chiuditi eccoli qua vi ricordate ieri che avevo provato a farvi notare questi punti molto luminosi questa è una membra in Geffi in effetti appena uscite dall'epitelio noi vediamo questi accumuli di membrana e li vedevamo li vedevamo anche qua questo accumulo di membrana è una membrana è la membrana vecchia che è stata tolta perché io sono un'altra cellula adesso ho bisogno di un'altra membrana e devo farlo in fretta ok? c'è un momento in cui vecchia via la vecchia membrana sulla nuova membrana per la mia nuova vita da cellula mesenchimale ci siete? ok e in effetti quindi internalizziamo queste caderine ma potremmo verificare se effettivamente c'è stata anche una down regolazione del gene non entraremo poi più in altre parti questa è la parte l'unica volta in cui mi concedo di entrare così nel dettaglio proprio sperimentale no? in altri casi vedremo degli esperimenti ma in modo più generico comunque possiamo andare a verificare in effetti se questo se in effetti le primary mesenchyme cells downregolano il gene delle caderine ci siete? downregolano il gene delle caderine e come si fa? mi servirebbe una però per farlo con il gene expression alla vecchia maniera con una real time PCR io ho bisogno di avere una cultura di primary mesenchyme cells di cellule che sono tutte primary mesenchyme cells estraggo l'RNA e faccio la misura delle caderine quindi prendo una popolazione di primary mesenchyme cells e misuro il gene delle caderine d'accordo? come faccio ad avere una cultura di cellule primary mesenchyme cells o metto un povero dottorando ad aprire ricci di mare a spruzzare fuori queste si può fare c'è chi lo fa lo schiacci proprio e tiri fuori queste primary mesenchyme cells però è un casino oppure posso usare la mia conoscenza dei network genici e per esempio invece overesprimere P-Mar1 ve lo ricordate? P-Mar1 che era l'interruttore no? che faceva partire il programma primary mesenchyme cells inibendo HES-C allora se noi mettiamo P-Mar1 in un'ovocita allora HES-C sarà inibito in tutto l'embrione ci siete? e quindi tutte le cellule della blastula attiveranno non avranno HES-C e quindi attiveranno LX1 snail e attiveranno quel programma genetico questo è un esperimento di reprogramming spettacolo in effetti guardatelo qua l'embrione si disgrega completamente non c'è più neanche una cellula epiteliale lo vedete? questo è il controllo questo è l'embrione in cui abbiamo overespresso P-Mar1 si è disgregato tutti diventati primary missing time cells ma attenzione perché se io a questa overespressione di P-Mar1 aggiungo un morfolino per snail quindi io pompo P-Mar1 in tutte le cellule tutte diventate andiamo tutti al party mega party non esiste più l'esercito cancellato ecco però se io contemporaneamente invece inibisco snail vedete? se snail viene inibito con un morfolino invece è buono come se non fosse successo niente tutti gli altri geni sono a posto non c'è SC c'è LX1 c'è TS c'è delta ci sono tutti ma basta che non ci sia snail allora questo esperimento sicuramente mi conferma tutto quello che abbiamo visto fin qui quindi è una bellissima conferma di quello che abbiamo visto e i conti tornano direi no? ecco che però abbiamo anche una cultura di cellule quindi di cellule più o meno omogenee su cui possiamo fare l'mRNA calcolare l'mRNA di cellule tutte primary mesenchyme cells e poi di cellule tutte primary mesenchyme cells che però hanno fallito nella epitelial to mesenchyme al transition perché? perché gli mancava snail d'accordo? e vi ricordo che abbiamo visto un attimo fa che snail non riusciva a fare o qui abbiamo twist adesso sono tornato a snail perdonatemi snail è uguale che snail non riusciva a fare la de-adhesion e quindi proviamo un po' a vedere com'è il gene delle caderine qui come ve lo aspettate? quando io overesprimo PIMAR1 vado alla macchina della PCR perché riaccendiamo le luci cosa vi aspettate di vedere no? al gene delle caderine se io spengo PIMAR1 il gene delle caderine va su o va giù più vediamo chi vota ai voti quindi PIMAR1 ha fatto diventare tutti i primary mesenchyme cells guardate queste cellule secondo voi in queste cellule il gene delle caderine com'è? a manetta o è spento? allora chi vota per a manetta alza la mano chi vota per spento alza la mano ok ci siamo certo mi sembra che si vogliono bene quelle cellule no? ognuno per i cazzi loro hanno l'acido e stanno ballando da sole cioè nessuna caderina non sono legate tra loro sono uscite abbiamo down regolato l'hanno fatta la de-adhesion pure troppo ok qui lo skin change è stato globale fantastico tutti hanno down regolato le caderine e qui invece cosa mi dite? lì il gene delle caderine come lo troverò? su o giù? aumentato forse addirittura chi lo sa lo vediamo in effetti eccola qua questo è proprio il file di Excel di chi ha fatto questa analisi è preso uno snapshot del suo computer questo è il risultato della real time PCR allora la real time in realtà è una tecnica in cui tu non misuri proprio fisicamente il numero di RNA quello l'abbiamo visto ma era una tecnica più speciale più particolare questa è una cosa che c'è in tutti i laboratori anche quelli più sfigati ed è una tecnica in cui misuriamo in relativo ma molto spesso è proprio la cosa che ci serve rispetto ad un controllo quindi in questo caso il controllo che vedete a zero sarebbe il wild type allora rispetto al controllo chiaramente abbiamo messo P mar 1 quando mettiamo P mar 1 snail va su questi cazzi è a valle certo sarà stimolato ok ma anche P mar 1 scusate ALX1 va su ci siete? e qui insomma la cosa che invece vi faccio notare e questo lasciamo perdere questo gene invece vedete questo è il gene delle caderine il gene delle caderine quando over esprimiamo P mar 1 lo vedete azzarola si è andato giù è andato di brutto giù rispetto al controllo mentre quando contemporaneamente over esprimiamo snail lo vedete quando contemporaneamente over esprimiamo snail snail no scusate quando blocchiamo snail ho detto una stupidaggine quando contemporaneamente sblocchiamo snail invece sembra addirittura aumentato cioè ci aspetteremo uguale al controllo il fatto che sia addirittura aumentato ecco ma perché questo? perché effettivamente poi se andate a fare tutte le verifiche snail controlla il gene delle caderine ok quindi ALX1 accende snail e poi sarà snail per conto di ALX1 ad occuparsi di spegnere il gene delle caderine gene delle caderine siamo arrivati in qualche modo ho cercato di farvi una catena molto semplificata però da tutta questa catena di comando per arrivare finalmente ad un gene che ha una funzione che fa qualcosa che non dà solo degli ordini ci siete? la caderina è un gene strutturale un gene che fa qualcosa parte di questo programma genetico e quindi se ci riflettete un attimo forse piano piano la struttura di questo programma genetico potreste almeno farvene un'idea non la vediamo nel dettaglio non ci interessa neanche no? mi piacerebbe solo di nuovo che voi aveste un'idea della logica abbiamo detto che la forma è scritta nei nostri genomi e per capirla dobbiamo entrare nella logica di questi geni regolatori network ecco questa è la logica quindi un interruttore che inibisce e che permette di far partire una serie di geni e poi questa serie di geni che sono sempre fattori di trascrizione controllano altri fattori di trascrizione che in definitiva andranno a accendere o spegnere i geni effettori l'altro elemento fondamentale è che questi fattori di trascrizione sono pochi mentre i geni effettori sono tantissimi e quindi probabilmente ci sono questi interruttori a monte perché proprio perché l'organizzazione di questi geni è modulare cioè io accendo una serie di geni tutti insieme che lavorano insieme e quindi ci sono dei controllori di quella funzione voilà e l'evoluzione dei tipi cellulari vi dico ancora questo perché così almeno ci siamo arrivati su questa storia dei moduli l'evoluzione dei tipi cellulari quando è che l'epitelio e il muscolo diventano due tipi cellulari diversi nel momento in cui questi selector genes ok vengono accesi o spenti in una cellula piuttosto che un'altra quindi ipotizziamo che ci sia un P mar 1 della cellula epitelio muscolare primaria a valle ci saranno dei geni tipo LX1 che controllano il modulo muscolare e ci saranno degli altri geni che controllano invece il modulo epiteliale adesione eccetera eccetera nel momento in cui appunto io spengo il modulo epiteliale rimane acceso solo più quello muscolare ci siete quindi io tengo acceso l'interruttore del modulo muscolare e spengo quello epiteliale e in questo modo e dall'altra parte faccio l'opposto in un'altra cellula figlia di una divisione invece accendo il modulo epiteliale e spengo quello muscolare e in questo modo io posso ottenere da un unico programma genetico senza cambiare troppo solo giocando con i bottoni ok grazie a questa organizzazione modulare questa cosa non ve la chiederò all'esame non vi preoccupate però secondo me è affascinante perché ci spiega molto di che cosa è stata l'evoluzione di come è organizzato il nostro genoma vabbò spero che avviate modo non pensate di averlo già capito sono cose su cui spero avviate modo di riflettere ancora ok e visto che mi sono allungato clamorosamente su questa cosa proprio esagerando ma non ti preoccupate dobbiamo ancora fare un piccolo pezzo però a questo punto cioè dovremmo fare altri due piccoli pezzi oggi ma ne faccio solo più uno e quindi colgo l'occasione giusto per citarvi ancora un altro piccola cazzata questa è una stupidaggine perché appunto c'è ancora un altro passaggio solo ve la racconto senza entrare troppo nei geni anzi senza entrare nei geni proprio c'è poi ancora un altro passaggio perché queste cellule primary mesen seguiamo le loro storie un briciolo cos'è successo poi dopo che sono uscite nel blastocele hanno fatto un mega party in realtà no non era una festa pensavano di andare a una festa con l'accesso sotto la lingua in realtà si trovano in un cantiere un cantiere edile dove invece devono darci sotto a costruire queste spiccole ecco la cosa che possiamo chiederci ancora se volete è come fanno a sapere dove andare cioè la cellula le primary escono e poi formano questo cerchio e scelgono due punti particolari ventrali per cominciare a costruire queste spiccole come fanno a sapere dove la cellula non ha gli occhi come fa a sapere dove deve andare e la parte ventrale adesso mi schianto veramente cioè come fa a sapere dove deve andare avete un'idea che cosa guida la migrazione delle cellule tipicamente eh come si muovono le cellule eh chemiotassi vi piace questa parola vi piace o non vi piace questa parola sì cioè ci vuole qualcuno che le attiri giusto ok se no girano a vuoto o anche solo magari seguendo no non c'è solo la chemiotassi quindi con cui segui un gradiente potresti anche seguire una traccia quindi per adesione ad altre cellule esiste anche quello ma in ogni caso quindi questo va bene l'abbiamo già visto mille volte allora in questo caso in effetti è chemiotassi e vi faccio vedere solo con questa ibridazione in situ e ci accontentiamo di arrivare lì esistono evidentemente degli altri elementi di cui ragioneremo domani iniziamo a ragionarci domani esistono evidentemente degli altri elementi che permettono come abbiamo delimitato il punto in cui nascevano le primary mese in time cells lì ecco esistono degli altri elementi guardate che bello che fanno sì che venga espresso questo FGF non vi spiego come non vi preoccupate però lo sappiamo sappiamo che può esistere vedete questo punto in cui questa è l'ibridazione in situ questo è l'FGF una molecola secreta l'avete studiato l'FGF la via di segnalazione dell'FGF no? non importa non ci interessa comunque come tutte le molecole segnale c'è un recettore che si chiama FGF receptor quindi questo è l'FGF che vedete è qui e quindi attira le cellule qui perché le attira perché le cellule hanno la competenza a ricevere questo segnale ovvero esprimono il recettore quindi le primary mesenchyme cells via le caderine e mettiamo su guardatelo qua ce l'hanno solo loro in questo skin change abbiamo tolto le caderine e montato in membrana invece il recettore per l'FGF che ci dirà dove andare ok? quindi io esco e adesso e mettiti questi recettori ok FGF receptor dov'è l'FGF? di là quindi si metteranno a fare questo cerchio poi in realtà è più complicata la storia come mai il cerchio lasciate per però vedete questi due cluster questi due cluster sono lì grazie a questo FGF ci siete? quindi risponderanno a dei chemo attractive cues e anche i mutanti bassi qui faccio vedere solo questo è il wild type se voi mettete un morfolino contro l'FGF se ne mette il morfolino vedete si può usare a una concentrazione più bassa quindi tolgo solo un po' di FGF e chiaramente sì insomma le cellule o sono arrivate nel posto sbagliato qui probabilmente hanno agito anche l'FGF non gli dice solo dove andare ma anche modula la loro attività però qui ci fermiamo salutiamo il riccio di mare perché dobbiamo passare ad un animale invece che si trova sulla terra emersa e vola dovremo passare alla drosofila però vi dirò prima di passare alla drosofila allora aspettate che questo lo stoppiamo allora Grazie a tutti.